Lo stratagemma è sempre lo stesso. Un sedicente marescello dei carabinieri e un avvocato chiama presso l'abitazione dell'anziana vittima e chiede il pagamento di un incende somma di denaro come risarcimento per le spese legali relative all'arresto di un figlio che è rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti. Un altro complice invece è pronto nei pressi dell'abitazione della vittima per il ritiro del bottino. Questa volta però qualcosa andava storto in quanto i carabinieri riuscivano a bloccare i due malfattori mentre erano nei pressi dell'abitazione della donna per ritirare i soldi provento della truffa.